Nella serata di domenica un evento insolito ha colto di sorpresa i bagnanti ad ascea. Una tartaruga caretta caretta ha fatto capolino sul litorale di ascea marina lasciando tutti increduli. Nonostante la presenza dei bagnanti l'animale è uscito dall'acqua senza alcuna preoccupazione e ha iniziato a deporre le uova sulla sabbia. La scena, tanto rara quanto emozionante, è stata immortalata da coloro che erano presenti sul posto. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei volontari dell'EMPA, il nido è stato messo in sicurezza. La tartaruga caretta caretta sta facendo sentire la sua presenza in Campania. Finora sono stati registrati 11 nidi di questa specie nella regione. Castelvorturno si aggiudica il primato con ben sei nidi segnalati, seguito da palinuro con due, acciaroli, eboli ed ascea con un nido ciascuna. Inoltre, sono state riscontrate tracce di risalita in varie altre località, testimoniando la presenza diffusa di questi splendidi animali sulle nostre coste.